Ciao, sono Massimo Varini. In questo video ti voglio parlare della serie duo di ECO Guitars. La serie duo si presenta in diversi modelli che hanno in comune i legni, l'elettronica e l'hardware. Il sistema di amplificazione della serie duo è il Fishman Flex Plus T, completo di volume, controllo di bassi e alti, inversione di fase anti-feedback e accordatore con funzione di mute. Per le shape A e A Cutway il nut è largo 46 mm e il diapason è 630 mm. Oltre a questo la verniciatura è satinata Open Pore. Il top, fasce e fondo sono in mogano così come il manico. La tastiera è in South American Roupana, mentre le meccaniche sono aperte in stile vintage. Sul sito ECO Guitars potrai trovare le schede prodotto con fotografie e dettagli per ciascun modello della serie. Grazie per l'attenzione e a presto! Grazie per la visione!